Ciao belli bentornati sul punto di G io sono il vostro G ed oggi vi faccio vedere la combo mouse e tastiera meccanica più economica che sono riuscito a trovare su Amazon e che più mi abbia convinto stiamo parlando della Avit HVKB432L combo con layout italiano che è costata solo 20 euro stanco di questa scritta? SDKey è il sito a cui rivolgerti per le chiavi di videogiochi e software di cui hai bisogno digitare nella barra di ricerca il prodotto da te desiderato, seleziona ciò che vuoi acquistare e clicca su acquista ora mi raccomando ricorda di usare il codice sconto punto per uno scontro del 25% su un prezzo già abbastanza conveniente dopodiché dovrai inviare l'ordine, scegliere il metodo di pagamento a te più congeniale e notare come il tutto si svolga in maniera rapida, veloce, senza intoppi e come l'ordine arrivi molto molto presto nel tuo user center ma a questo punto come si attiva Windows? Basta scrivere attivazione nella barra di ricerca, andare nella sezione corrispondente e incollare il codice che avete ricevuto prima sul sito SDKey, fantastici! Sapete, a noi PC Master Razer piace tantissimo guardare i nostri computer, guardare la nostra strumentazione, guardare tastiere e mouse ma poi quando qualcuno ci viene a dire, eh ma quanto hai pagato tutta la tua roba diciamo che vi parte quell'embolo particolare che vi fa dire e quindi mi sono fatto un pochettino il conto delle periferiche che ho qui sulla scrivania e a partire dal mouse che è un Logitech G Pro Super Lite praticamente che costa oltre 100€ più il tappetino di ricarica che è il Logitech Power Play e la tastiera che utilizzo di solito che è un XPG Summoner quindi il costo totale si aggirava al di sopra dei 300€ e a quel punto mi sono detto ok ma se uno vuole acquistare effettivamente la sua prima tastiera meccanica e il suo primo mouse da gaming che siano RGB appunto tastiera con switch meccanici e che fondamentalmente li facciano giocare bene quanto deve spendere al minimo? mi sono ritrovato praticamente su Amazon ad acquistare questa combo mouse e tastiera che ho acquistato appunto con i miei soldi per cui questo video non è sponsorizzato io non vengo pagato assolutamente da Avit per fare questo video ma bisogna effettivamente parlarne facendo un piccolo unboxing del prodotto abbiamo come avete visto prima una scatola nera al cui interno abbiamo un pezzo di cartone al quale sarà attaccata la vostra tastiera e abbiamo il cosetto per tirare fuori i keycaps non so precisamente come si chiami ma è una chiavetta quella lì che praticamente si infila così e pam tirate fuori i keycaps e abbiamo una specie di pellicola protettiva per tastiera quindi alla fine non c'è un vero e proprio unboxing ma i prodotti che sono all'interno della scatola sono di tutto rispetto partiamo innanzitutto dal mouse il mouse fondamentalmente è la periferica sulla quale io mi baso di più per quanto riguarda il mio gioco vi spiego il perché il mouse è qualcosa di estremamente particolare questo qui come vedete è rgb ha un tasto programmabile con tutti i vari tasti quindi voi direte sì vabbè perfetto per giocare è il cavolo letteralmente è un pezzo di plastica che ricorda molto il Razer Deathadder che funziona perché funziona ha un sensore con 5 livelli di dpi mi sembra ve lo leggo dal libretto di istruzioni perché è presente anche questo nella confezione 800, 1600, 2400, 3200, 4000 e 4800 dpi quindi sono 6 livelli di dpi con un cavo lungo 1,80m ma al giorno d'oggi se giocate gli spara tutto ovviamente la cosa che io consiglio di fare è di mettere al massimo il sensore del mouse e poi di regolare la sensibilità in game ad ogni modo dicevo il mouse ha 7 tasti fondamentalmente uno per i dpi che si trova sotto la rotellina uno per le luci due tasti ovviamente destra e sinistra il tasto sotto la rotellina e due tasti laterali personalmente parlando non è il mouse che preferisco ma perché? perché io sono estremamente puntiglioso per quanto riguarda il mouse non avendo delle mani molto molto grandi io trovo le dimensioni perfette dei mouse con quelli della Logitech io praticamente ne ho al momento qui 1, 2, 3, 4, ne ho 5 quindi si lo so per varie evenienze lo sto facendo anche una piccola collezione se volete un video al riguardo fatemelo sapere e quindi il mouse è qualcosa di estremamente soggettivo però non posso dire che non funzioni bene al momento state guardando sicuramente delle clip di me che gioco e diciamo che sull'asse orizzontale magari c'è un po' di miglioria da fare perché c'è il cavo fondamentalmente non è un mouse wireless quindi il cavo molte volte vi sposta la mira di qualche millimetro ma sull'asse verticale invece non è così male la situazione anzi si riesce tranquillamente a giocare si riesce anche a fare delle belle kill in effetti con questo mouse e io non sono il giocatore migliore di COD come state vedendo però riesco praticamente a giocare con questo mouse adesso però passiamo al pezzo forte della combo ragazzi cioè la tastiera la tastiera meccanica è una 100% o 105% non ricordo mai la differenza comunque quella lì col tastierino numerico switch meccanici cherry mx blue che sono clicchi non sono tattili quindi ogni volta che premerete un tasto sentirete clic 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 come adesso c'è a chi piace questo suono devo essere sincero a me non dispiace sinceramente parlando credo che questa tastiera per costare solo 10 euro perché vi ricordo ragazzi la combo costa 20 euro ciò significa che probabilmente 10 euro costerà il mouse e 10 euro costerà la tastiera anche se io darei 15 euro di costo alla tastiera e 5 euro di costo al mouse è una tastiera fantastica la tastiera che utilizzo io attenzione è una xpg summoner di xpg adatta ci ho cambiato un pochettino i keycaps e il costo solo della tastiera è al di sopra dei 100 euro sentite qui sono dei cherry mx rossi tattili il suono è decisamente diverso è molto più morbido ma alla fine non posso dire che funzionino in maniera diversa cioè come mi trovo con questa tastiera io mi trovo con quest'altra tastiera questa qui costando di più ha non lo so un usb pass through come potete vedere qui e ha i controlli multimediali c'è una rodellina per il volume un tasto muto eccetera eccetera ma a parte questo le due tastiere si comportano esattamente alla stessa maniera davvero non sono riuscito a trovare alcuna differenza sono certo che però gli amanti delle tastiere meccaniche custom diranno sì hai strapagato una tastiera che è fondamentalmente non all'altezza delle prestazioni di una tastiera meccanica custom che costa di meno sì sicuramente però come ho detto prima io non presto estrema attenzione alla tastiera basta che funzioni e basta che mi dia una bella sensazione semplicemente per quanto riguarda i tasti io adesso so che persone come Core che saluto ciao Marco praticamente si staranno rigirando sulla sedia però fondamentalmente io non posso assolutamente dire che questa tastiera di Avit o la tastiera di Adata hanno delle enormi differenze almeno per me io non sono assolutamente un esperto andando poi sul sito dell'Avit ci sono i driver loro non dicono driver io non ho scaricato nulla perché effettivamente tutto funziona come dovrebbe funzionare ma ci sono suppongo dei driver che permettono vari livelli di illuminazione per la tastiera varie fantasie eccetera eccetera ci sono anche dei blocchettini di metallo credo che siano comunque dei mini bulloni ai quali potete attaccare magari delle cose stampate in 3d non c'è che dire la tastiera sia in plastica però al tatto fondamentalmente mi sembra abbastanza solida dal punto di vista estetico ha questo contorno metallico che è molto molto carino mi piace davvero tanto e ha uno stile fondamentalmente molto classico molto anonimo se vogliamo però tastiere effettivamente troppo shiny shiny se dovessi acquistarle no ci penserei un pochettino su questa qui mi piace poi ovviamente se volessimo darla come l'altra tastiera che ho con dei keycap custom ok lo farei però fondamentalmente questa qui mi piace a livello di prestazioni come ho detto entrambe le periferiche si comportano molto bene il mouse non è il top del top ma io sono estremamente puntiglioso sui mouse c'è da dire che il mouse oltre alle prestazioni deve lavorare sull'ergonomia per farvi capire questo è il mouse che utilizzo di solito il G Pro Lite che pesa 65 grammi questo qui è l'altro mouse cioè capite che sono due dimensioni estremamente diverse e sono due impugnature anche diverse io di solito sono più un tipo da claw anche mista possiamo dire ho un'impugnatura ad artiglio e comunque mista questo mouse essendo grande mi costringe ad utilizzare un'impugnatura a palmo ed è qualcosa che io non preferisco nel gioco cosa dire di più per 20 euro tastiera meccanica che funziona da dio e mouse che sebbene sia plastica e si senta che non sia un mouse estremamente premium funziona io non posso assolutamente dire che non funzionano credo che questa combo sia la migliore per chi volesse acquistare per la prima volta una tastiera meccanica e un mouse da gioco senza spendere un capitale ovviamente per 10 euro di tastiera meccanica e 10 euro di mouse credo che siano soldi estremamente ben spesi e che fondamentalmente tutti quanti possiamo permetterci ciò significa che per una persona non esperta come me e quindi probabilmente anche come voi che state guardando questo video non c'è bisogno del mouse da 125 euro o il mouse da 140 euro per poter giocare bene l'importante è adattarsi alle periferiche che uno ha ed effettivamente con un po' di tempo io sono certo di riuscire ad adattarmi a questo mouse però ormai sono troppo viziato da quelli della Logitech sì raga lo so ma più che altro perché la Logitech sul corpo suo ha la G quindi io sono G e capite qual è il nesso alla fine no non c'è che dire sono estremamente soddisfatto di questo acquisto tant'è che sto pensando di far diventare la tastiera dell'Avit la tastiera che utilizzo tutti i giorni piace davvero tanto oltretutto per il costo che ha vi ripeto raga 10 euro 20 euro con il mouse penso che sia davvero un best buy ad ogni modo in descrizione c'è un link se volete controllare la tastiera è un link affiliato quindi se voi acquisterete questa tastiera una parte rientrerà a me ciò significa che se voi pagate 20 euro di tastiera a me mi rientrano se è vero 20 centesimi però voglio dire ve la consiglio davvero tanto non spendete un capitale funziona e se magari poi la distruggete perché perdete una partita a COD la prendete a cazzotti ne potete acquistare un'altra perché fondamentalmente 20 euro è una spesa più che giusta secondo me ed estremamente economica detto ciò che dire grazie mille per aver guardato il video fatemi sapere la vostra per quanto riguarda questa periferica l'avete avuta l'avete acquistata se la volete acquistare cosa vi aspettate da essa io vi ho dato le mie impressioni ma mi piacerebbe conoscere anche le vostre nel caso in cui decideste di acquistarla grazie mille ci vediamo alla prossima sempre qui sul punto di G sempre qui col vostro G ciao ciao belli ciao 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 ciao